L'Arley è una grande famiglia, il sabato, la domenica, quando ci troviamo, unisce tutti, qualunque lavoro facciamo unisce sempre tutti. Dalla versione più moderna a quella classica dei film americani, il mito dell'Arley Davidson non tramunta mai, né è la prova all'Open Day che si è svolto in una nota concessionaria a Rettina che ha letteralmente riunito tutti gli appassionati di questo mezzo a due ruote e anche tanti curiosi. Arley Davidson è uno stile non solo di vita, ma proprio è una filosofia di chi piace la motocicletta, quindi la moto è la moto, Arley Davidson è Arley Davidson. Uno stile di vita, insomma, una passione che se ti prende non ti lascia più e che nonostante i suoi ormai cento anni, i primi prototipi sono dei primi del Novecento, ma la vera produttura l'azione fu negli anni venti, incanta e rapisce ancora oggi con la sua linea e il rombo inconfondibile del suo motore. Sì, perché in moto siamo tutti uguali, ci accumula lo spirito di libertà e di divertimento che ci fa stare tutti insieme amicavolmente. Se uno di noi nel gruppo dice, ho da traslocare, ti vedi arrivare a casa a 30 erlisti a traslocare. Ossia Ressi Grazie per la visione!